E' partito dal suo paese la siciliana Piazza Armerina il primo di luglio, ci tornerà alla fine di settembre tutto sulla sua bicicletta. Parliamo di Ugo Brischetta e del suo fantastico viaggio su pedali che oggi ha fatto tappa a Pesaro in quella che è la fase discendente di questo percorso. Ugo, sei arrivato fino alla Valle d'Aosta, fino al Trentino, quali motivazioni ti hanno spinto a questo viaggio sicuramente unico nel suo genere? La motivazione che mi ha spinto a affrontare questo viaggio è stato guarire, perché ho passato gran parte della mia vita a stare male, ho fatto diverse visite terapeutiche ma alla fine nessuna di queste ha funzionato perché ho utilizzato la bicicletta come medicina e oggi sono qui e ha funzionato alla grande. Immagino tante difficoltà anche a livello meteorologico, caldo record, magari anche le bombe d'acqua, quali ostacoli hai trovato nel tuo percorso? Beh, il caldo mi piace, per cui non è stato per niente un ostacolo. Per la pioggia sono sempre stato fortunato, dove passava è arrivato il sole e molte volte sono riuscito anche a evitarlo. Un viaggio lungo che ha riscosso anche l'interesse di tante persone, tante che ti hanno anche ospitato. Sì, da quando ho iniziato a postare sui gruppi molte persone mi hanno contattato e si sono viste nella loro storia per cui hanno voluto incontrarmi e per loro è stato un piacere anche per me poter scambiare le nostre informazioni, le nostre storie ed è stata una bellissima esperienza. E così anche a Pesaro? A Pesaro è un godo di incontrare le persone, sono appena arrivato e spero di incontrarne tante. E stai per trovare ospitalità anche qui a Pesaro? Sì, a pranzo sarò ospite presso un hotel per Ticari di Pesaro e stasera sarò ospite da Daniele Grassetti che ha fatto già lunghe camminate e sono curioso di ascoltare la sua storia. E dunque la bicicletta è una medicina che puoi consigliare a tutti? La bicicletta, comunque è una passione, per me la passione è la bicicletta, per altri può essere la pittura, può essere la cucina, nella propria passione si può sempre trovare la medicina. Non possiamo che augurarti buon viaggio allora. Grazie mille.